Alla vigilia delle vacanze e natalizie il desiderio di farsi un regalo speciale cozza con esigenze diverse per chi, come padrone di casa, cerca punti tranquillità o per chi, come gli ospiti, deve tenere il passo nelle prime e ci prova da subito, visto che dopo pochi secondi di gioco Pietro Paolo si sgancia in velocità e poi serve coccia, frenato dal piede freddo che grazia un croce comunque attento. Martinsicuro in pompa magna, non proprio perché su capovolgimento di fronte un rimpallo serve a sistemare il pallone sul piede già caldo di Lepre che porta avanti i suoi. I minuti seguenti servono agli ospiti per tarare gli avversari senza particolari riscontri però, tanto che l'azione numero tre della gara è sempre a pannaggio dei marsicani che provano con la potenza ma difettano in precisione con il solito Lepre. Ancora Granata in grande spolvero al trentasettesimo quando Edoardo De Meis pennella una traiettoria liftata per Dema di volo ma impreciso. Si rimane quindi sull'1-0 e noi passiamo alla ripresa che fatica a decollare ma che poi si farà ricordare. Siamo al quarto d'ora quando un sontuoso Lepre si crea varchi e angoli estremi e colpisce di sponda. La palla si appoggia sul palo ed entra. 2-0 e il match che si avrebbe chiuso se non fosse che dopo pochi secondi Di Giorgio fa vedere di essere anche egli un eccellente giocatore di biliardo. Palo-gol 2-1 e partita di nuovo in bilico e sempre elettrizzante. Diciannoesimo si ripropone il capistello con Lepre bravo ad imbeccare il neo entrato Franchi frenato da un miracoloso intervento della difesa ospite. Ventitreesimo controviene Martinsicuro che porta al tiro di nuovo Di Giorgio che opta però per la soluzione peggiore depilandosi e invitando così a Nozze Croce che rimane in piedi e chiude. Ventottesimo granata di nuovo propositivi e questa volta Franchi non perdona portando i suoi sul 3-1. Martinsicuro è fatica a reagire ma si propone da calcio d'angolo al 31esimo quando Picciola non trova però lo specchio della porta. Locali comunque sul velluto e al 41esimo Dema manda in tilt la retroguardia ospite con un flipper da posizione defilata. Nulla di fatto che non lo accomuna Lepre che invece due minuti più tardi non perdona gli svarioni altrui e si rilancia con forza verso il titolo di capocannoniere. Al triplice fischio infine il buon Natale è tutto granata e d'altronde con il 4-1 non potrebbe essere altrimenti. Dopo partita con un soddisfatto mister Torti, allora partita iniziata bene e proseguita meglio ma che ci ha dato alcune certezze quali? Sicuramente che abbiamo un attacco importante, quello è fuori dubbio. Oggi siamo stati brevi anche in difesa anche se sul pareggio loro c'è stata una piccola dormita. Però devo dire che la squadra ha meritato ampiamente questa vittoria. Vorrei cogliere l'occasione per fare un augurio di un buon Natale a tutti, un felice anno 2016, a tutti i sportivi, a tutti i telespettatori di Antenna 2 e di Rete 8. La speranza è che il 2016 sia migliore del 2015. Grazie mister, noi rilanciamo a pedalata perché sembra l'ultima domanda così, invece proviamo ad essere più analitici e ripercorriamo questo match. Prima considerazione, si sono affrontate due squadre di pari livello sembra e quindi la domanda è d'obbligo. Cosa è mancata al Capistrello che invece si trova una decina di punti dietro? Sono mancati secondo me alcuni punti che la squadra avrebbe meritato di ottenere per quello che aveva fatto vedere in campo. Noi siamo, tante volte l'ho detto, siamo una buonissima squadra che però deve rimanere sempre applicata e concentrata. Come scendiamo di intensità ci fanno gol. Poi in questa categoria è una categoria importante dove trovi giocatori importanti che al minimo errore ti puniscono. E noi, ripeto, in alcune situazioni meritavamo ampiamente o di vincere o di vareggiare. Non ci siamo riusciti per tante situazioni, per episodi, ricori sbagliati che potevano essere dei punti importanti. Però poi alla fine abbiamo girato il giorno di andata a 21 punti. È un buon girare, un buon viatico. E certo, il giorno di ritorno dobbiamo fare ancora meglio perché le squadre si sono rinforzate tutte. Sicuramente sarà un altro campionato. Noi stiamo cercando di fare qualcosa anche noi, per cercare a livello numerico di essere una rosa competitiva fino alla fine.